Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il TG10, l'apertura del nostro telegiornale anche oggi è dedicata alla vicenda Liberi Consorzi. Interviene l'avvocato Guglielmo Piazza che ha seguito l'iter normativo e procedurale. Lo sentiamo ai nostri microfoni. La decisione assunta ieri dall'Assemblea regionale siciliana riguardo la vicenda dei Liberi Consorzi che di fatto impedisce la migrazione del comune di Gela verso l'area metropolitana di Catania, così come di altri tre comuni, ha sollevato polemiche e reazioni da parte innanzitutto dei comitati che si sono spesi per questo progetto ma anche delle amministrazioni comunali coinvolte. L'avvocato Guglielmo Piazza che ha seguito la vicenda dal suo esordio oggi interviene per spiegare profili normativi istituzionali e politici. Bisogna un attimo distinguere quelli che sono gli aspetti politici da quelli che sono gli aspetti istituzionali perché purtroppo nonostante tutto si nota un atteggiamento quasi da tifoserie sul campo rispetto a questa vicenda. E questa è una cosa molto grave perché di fronte alla conclamata anche violazione di una legge vigente, stiamo parlando dell'articolo 44,2 perché non è finita qui da questo punto di vista, noi ci ritroviamo ad avere un assetto istituzionale degli enti intermedi di secondo livello che ancora non è completo e nonostante ciò si cerca di indire le elezioni degli organi rappresentativi di questi enti. Questa è una cosa veramente grave perché dal punto di vista delle regole istituzionali se non funzionano quelle, se non c'è il rispetto di queste regole, poi diventa anche complicato pensare ad ulteriori sviluppi futuri di qualsiasi altro tipo di progetto. Posto che la vicenda riguarda intere comunità che hanno scelto quindi di ridisegnare i confini delle ex province, a questi soggetti avvocato oggi cosa diciamo? Beh diciamo è piuttosto grave l'affossamento di questi DDL da parte del plenum dell'assemblea su un parere della prima commissione che certamente rimanda la patata bollente e lascia il cerino in mano al governo regionale perché, attenzione, non è finita qui, voglio dire l'articolo 44 della legge regionale 15 del 2015 in atto è vigente e prevede un determinato iter. Con le motivazioni adotte in assemblea da parte del relatore onorevole Cascio, innanzitutto il relatore riconosce la validità del percorso normativo che ha portato le comunità a questa scelta di migrazione e questo è importante sottolinearlo, a prescindere dal fatto che il referendum si riferisse a qualcosa in ogni caso la legge regionale 15 del 2015 prevedeva un altro passaggio che era l'unico imposto della legge che era quello della delibera consigliare. Il problema è che viene rimandata la responsabilità al governo regionale per una carenza di istruttoria in relazione a quelli che sono gli aspetti economici del regolamento economico fra i vari enti. In realtà questa è una motivazione strumentale, è evidente, anche perché i DDL che erano stati presentati in assemblea all'articolo 2 prevedevano un determinato meccanismo di regolamento dei rapporti, ma questo ovviamente sta nelle prerogative dell'assemblea a decidere il come fare le cose, ma in questo specifico caso non sta nei poteri dell'assemblea trattandosi di una legge provvedimento il decidere se farne o meno, lo devono fare. Dopo una riunione che si è tenuta la settimana scorsa al settore servizi sociali in presenza della dirigente e degli assistenti sociali è emerso un quadro molto preoccupante sullo stato economico e sociale di moltissime famiglie gelesi. Nell'ottica di una politica volta alla responsabilità civile, ha detto l'assessore ai servizi sociali, Licia Abele, intervenendo sulla vicenda che rappresenta un vero e proprio allarme sociale, si stanno vagliando una serie di provvedimenti che, se confermati in sede di approvazione di bilancio, daranno modo di poter supportare effettivamente le fasce deboli. Così come già ribadita in Consiglio Comunale, ha spiegato ancora l'assessore Abele, si sta valutando l'opportunità di allungare la lista dei beneficiari dell'assegno civico con fondi comunali. Ciò non può non dimostrare in maniera chiara ed inequivocabile come la scelta politica alla quale si sta avvirando sia decisamente rivolta alla tutela dei bisognosi senza necessità di inutile demagogia. Siciliano, ieri era prevista, era fissata una riunione l'ennesima al Ministero per lo Sviluppo Economico a Roma e l'oggetto di questa riunione era la verifica del protocollo. Erano assenti i sindacati ma comunque la riunione si è svolta? Sì, il tavolo di verifica in Zenzolato, ecco quello standard che si svolge ogni due mesi, viene posticipato a settembre per varie ragioni. Noi in quanto istituzioni, dentro Zenzolato, la Regione, il Comune, il Ministero, abbiamo l'obbligo morale di continuare a mantenere alta l'attenzione sul territorio. Quindi a prescindere dal tavolo di verifica che sono un momento importante per confrontarsi tutti in maniera collegiale, ci sentiamo quotidianamente per verificare lo stato d'avanzamento delle attività sul territorio di Gela. Quindi abbiamo approfittato per incontrare il Vice Ministro, per incontrare altri funzionari dei vari Ministeri e fare il punto sull'azione programmatica portata avanti come ente territoriale. Quindi ad un anno di distanza abbiamo ritenuto opportuno cercare di fare il quadro sulle azioni relativamente all'accordo di programma, sul stato d'avanzamento del protocollo d'intesa, su quello che è stato fatto, i tempi in cui è stato fatto, in cui si devono fare i vari passaggi di avanzamento. Il Governo centrale vedono in quella soluzione proposta dall'ente territoriale un elemento strategico per il rilancio del sistema paese. Lei si ritiene soddisfatto del lavoro fin qui fatto in relazione alla situazione poi che vive in questo momento l'area industriale gelese? La situazione che vive il territorio e quindi non solo l'area industriale gelese è una situazione complessa. Sicuramente siamo a farsene carico e più di tutti sono i lavoratori che stanno dando dimostrazione di dignità nel resistere, nel fronteggiare una situazione devastante quale quella della perdita del posto di lavoro. Oggi sono più che mai convinto che il percorso tracciato e intrapreso con gli organi di governo è più concreto, più fattibile e che a breve le soluzioni diventeranno concrete. Stiamo parlando di strategia di carattere nazionale perché abbiamo cercato di dare a Gela il ruolo che aveva 60 anni fa, cioè quello di una piattaforma per la produzione, trasformazione e distribuzione di carburanti. A questo si affianca la piattaforma logistica con la possibilità di inserire il sistema portuale gelese all'interno dell'area logistica integrata del sistema portuale Augusto e Catania. Cerimonia di premiazione per la conclusione del percorso di alternanza scuola-lavoro presso lo stabilimento Eni di Gela. Cinque lavori realizzati dai giovani premiati dall'azienda del cane a sei zampe. Vediamo. Si è svolta in una sala dell'Eni a Gela la cerimonia di premiazione degli studenti che hanno preso parte alla prima edizione del progetto alternanza scuola-lavoro presso l'azienda del cane a sei zampe. Il percorso formativo è stato confermato per il prossimo anno ed esteso ad altri istituti della regione. Avviato anche il contratto biennale di apprendistato di primo livello per 20 studenti dell'istituto tecnico Morselli di Gela. Riconoscimenti sono stati conferiti per i cinque migliori lavori del progetto che ha visto la partecipazione di circa 200 studenti testimoniando come sia possibile studiare a scuola e anche negli stabilimenti Eni. Il progetto pilota per Gela organizzato e gestito da Eni Corporate University è stato inaugurato il 3 maggio scorso e ha coinvolto gli alunni del terzo anno appartenenti a cinque istituti di istruzione superiore. Terminato il periodo formativo i ragazzi sono stati invitati a preparare un lavoro riassuntivo del percorso. Le prime cinque tesine valutate da una commissione composta dai docenti della realtà Eni presenti a Gela sono state premiate durante la manifestazione. Il programma Alternanza Scuola Lavoro coinvolgerà circa 1500 studenti nei prossimi due anni a livello nazionale con stage, laboratori, corsi, e-learning e visite di studio presso siti Eni e altri siti di interesse per il settore energetico. Gli studenti gelesi hanno partecipato a sessioni in cui sono state trattate tematiche tecniche e gestionali proprio del know-how aziendale nonché workshop di orientamento sulle competenze personali richieste per lavorare nelle grandi organizzazioni. Alle lezioni teoriche sono state affiancate anche le visite in campo presso la raffineria. Finalmente si crea una sinergia tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro. Ormai non si può più improvvisare, ormai bisogna essere formati in modo intenzionale per inserirsi adeguatamente il mondo del lavoro. I nostri ragazzi collocati in contesto aziendale danno delle performance inaspettate, molto, molto positive. È fondamentale che l'impresa capisca che ha un ruolo sociale, cioè quello di collaborare assieme ai docenti delle scuole alla costruzione del curriculum dell'alunno. Siamo riusciti a costruire un percorso formativo di otto giornate, estremamente ricco, per 200 ragazzi, per un totale di 16.000 ore di formazione, 31 docenti interni dell'ENI impiegati in queste attività, quindi l'investimento è stato un investimento estremamente significativo. È stato loro anche spiegato quanto è importante in azienda riuscire ad agire dei comportamenti organizzativi positivi, quindi la capacità di lavorare in gruppo, la capacità di comunicare, la capacità di gestire anche delle priorità, di rispettare gli impegni. Vogliamo aumentare il nostro impegno per il territorio, come dicevo prima, non soltanto nell'ambito di attività industriale ma anche per altre iniziative. L'ENI non è solo una società, è una società che investe e che lavora nell'ambito industriale, ma ha una responsabilità verso il territorio sociale e noi siamo pienamente presenti in questo territorio. Abbiamo investito più di 300 milioni fino ad oggi, è una società che vuole abbandonare il territorio e non investe 300 milioni. E nel corso della cerimonia abbiamo raccolto altre interviste, vediamo. È stato uno strumento che ha facilitato la motivazione degli studenti, la novità dell'ambiente e anche dei formatori, ha consentito loro di mettere anche a confronto ciò che avevano imparato a scuola con questo tipo di esperienza. C'è stato un arricchimento complessivo degli studenti ma anche dei docenti e devo dire del dirigente e ritengo che sia stato un arricchimento per il territorio. È un progetto assolutamente nuovo perché l'alternanza scuola-lavoro l'abbiamo cominciato quest'anno con gli alunni del primo liceo e del terzo anno delle scienze umane. È importantissimo intanto il raccordo col territorio e poi per i ragazzi che hanno una certa propensione per un certo tipo di attività questo contatto con l'ENI è sicuramente fondamentale perché li mette in condizione di capire come passare dalla teoria alla pratica. Sicuramente è importantissimo perché mette i ragazzi in condizione di poter conoscere quelli che sono i requisiti necessari per una start-up, quindi impossessarsi un pochettino tutto ciò che è indispensabile per mettere un'azienda. Quindi il contatto con il mondo e il lavoro è fondamentale per questi ragazzi, tant'è insomma che loro si applicano e cercano un pochettino di fare in modo di impossessarsi di questi requisiti, queste conoscenze che sono fondamentali. Innanzitutto ha permesso la conoscenza di una realtà industriale dal di dentro perché indipendentemente dai pregiudizi o dalla conoscenza positiva o negativa che i ragazzi potessero avere, mai gli era stata data l'opportunità di entrare all'interno dell'ENI. Hanno conosciuto una realtà industriale, tra l'altro i ragazzi che sono i futuri cittadini di domani e quindi in qualche maniera con i lavori che hanno fatto, con l'idea, con gli input che gli sono stati dati, hanno anche fornito delle idee che spero i dirigenti ENI potranno anche adottare. E' importante uscire dalle aule e conoscere qual è il mondo reale. Molte volte le scuole riescono a dare un'ottima, un'importante preparazione teorica ma il primo incontro con una realtà industriale sicuramente è totalmente diverso. Però questo corso proprio di alternanza scuola-lavoro in realtà è andato un pochettino più avanti perché si è passato con la possibilità di come presentarsi a un colloquio e a un curriculum, di come sono le realtà produttive, cosa sono le gerarchie, i protocolli e quali sono i punti fondamentali per far funzionare l'organizzazione. E' possibile presentare la domanda per le borse di studio relative all'anno scolastico 2015-2016. Possono richiedere il beneficio i genitori degli studenti che frequentano le scuole statali e paritarie, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, appartenenti a nuclei familiari con attestazione ISEE relativa ai redditi del 2014, non superiore a 10.632,94 euro per il sostegno delle spese sostenute per l'istruzione ad esclusione di quelle riferite ai libri di testo obbligatori. Le domande sono reperibili al Comune o presso le segreterie delle scuole, scaricabili dal sito unitamente sui allegati e dovranno essere presentate esclusivamente alla segreteria della scuola di appartenenza entro e non oltre il 30 settembre prossimo. Mentre in piazza San Francesco questa mattina erano in corso i lavori per la segnaletica orizzontale dei nuovi stalli di sosta proprio dinanzi a Palazzo di Città, alcuni consiglieri comunali hanno manifestato il loro assoluto disaccordo con l'iniziativa. Le ragioni sono state spiegate al nostro microfono dal consigliere comunale Carmelo Casano. Questa cosa i consiglieri l'abbiamo sollecitata tante volte che piazza San Francesco deve rimanere a piazza San Francesco. Si possono usare i parcheggi limitrofi per aiutare i commercianti della zona, per aiutare le famiglie, per aiutare le donne in gravidanza. Quindi ci sono i parcheggi limitrofi anche sotto il comune che ormai non c'è più motivo di sicurezza, ci sono cinque posti e si possono occupare. Non si può occupare l'unico polmone verde che c'è nel centro storico. Questa cosa già l'avevamo sollevata in consiglio comunale, non veniamo ascoltati, anzi sono stato identificato pure dalle forze dell'ordine perché non posso fare il mio dovere di consigliere comunale. L'estito non ci sente niente, i consiglieri ormai parliamo, parliamo, ma lui non capisce che i consiglieri rappresentiamo il popolo. Nell'ambito del percorso formativo Anche tu puoi salvare una vita, l'organizzazione di volontariato Giubbe d'Italia, coordinata da Orazio Coccomini, organizza un corso di formazione come esecutore di BLSD. L'iniziativa si svolgerà sabato 30 luglio prossimo con inizio alle 9 presso l'aula di formazione della sede operativa di Via Falcone. Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per il 28 luglio. Gli interessati per informazione e iscrizioni possono contattare gli uffici al numero 0933 914419 oppure possono inviare una mail a giubbeditaliagela.chiocciolotmail.com oppure contattare la pagina Facebook Giubbe d'Italia Gela. Si terrà invece nei prossimi 27, 28 e 29 luglio il corso di formazione di primo e secondo livello rivolte ai volontari delle associazioni aderenti al coordinamento regionale sanità. L'evento è organizzato dalla pubblica assistenza Procivis, protezione civile di Gela in collaborazione con l'assessorato alla salute della regione siciliana e si terrà nei locali di Via Ossidiana al numero 23. E in conclusione della prima parte del nostro telegiornale vi ricordiamo che il saggio della scuola di danza dell'insegnante Claudia Trainito andrà in onda sulla nostra emittente domenica 24 luglio subito dopo il TG Silos intorno alle 20.30. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo tra poco, restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Questa mattina il Gela Calcio ha illustrato nel corso di una conferenza stampa tutte le novità e le modalità per poter acquistare l'abbonamento annuale per assistere a tutte le partite in casa del Gela. E' stato inoltre presentato il nuovo spot e ufficializzato il programma per l'imminente stagione sportiva e non solo. C'era per noi Flavio Centamore, sentiamo. Presidente, parte la campagna abbonamento del Gela Calcio, una nuova stagione in Serie D, una stagione importante. Avete parlato di tre anni di poter raggiungere la Lega Pro. Sì, è un progetto sportivo che ci sentiamo di lanciare per il nostro pubblico per dare un riferimento preciso. Noi quando abbiamo iniziato con l'ultimo progetto di tre anni, due anni fa, abbiamo detto che in tre anni volevamo la Serie D. Abbiamo vinto due campionati, anzi tre di seguito, e abbiamo anticipato di un anno. Quest'anno ci sentiamo di dire che in tre anni vogliamo raggiungere la Lega Pro e credo che ci dobbiamo organizzare tutti. Uno degli aspetti che più ci sta a cuore è il legame col pubblico, con i tifosi, con gli spettatori, che devono dare un segnale forte alla società. Inutile negarlo. La presenza del pubblico, la loro decisione di comprare l'abbonamento, sarà la misura della forza del nostro progetto. Presidente, il Gela parte con una nuova campagna abbonamenti, prezzi abbordabili, la città deve essere vicina a questa società? Sicuramente noi ci auguriamo che la città capisca che una squadra di calcio non è semplicemente il passatempo della domenica, ma può essere anche un veicolo per una maggiore diffusione nel territorio dell'esistenza della città di Gela, intesa nella sua globalità. Lo siamo stati nel passato, il progetto di quest'anno è di ritornare ad essere il veicolo anche di conoscenze e di comunicabilità nei confronti dell'esterno di ciò che oggi anche la realtà gelese può essere nel mondo del calcio. Noi ci auguriamo che la gente risponda, sapendo che da parte nostra ci si farà il massimo per poter dare quelle soddisfazioni che la gente merita. Assessore, innanzitutto partiamo da un dato, i primi abbonamenti saranno quelli dell'assessore e quelli del sindaco Domenico Messinese, poi il resto l'amministrazione sarà vicina a questa società? Ovviamente come esempio nei confronti di tutta la collettività i primi che faremo l'abbonamento saremo noi componenti dell'aggiunta e poi faremo tutto quello che è impossibile per poter dare delle infrastrutture al gelacalcio e un aiuto al gelacalcio per poter portare avanti il nome della nostra città nelle varie piazze in cui sarà coinvolta in questo campionato di Serie D. Primo trofeo podistico Ivan Siciliano si terrà domenica 31 luglio prossima a Marina di Acate. L'iniziativa è dell'Associazione contro le stragi del sabato sera presieduta da Salvatore Siciliano in collaborazione con l'atletica Padua Ragusa e l'atletica Mazzarino. La gara che avrà inizio alle 17.30 è valevole come undicesima prova del Grand Prix Provinciale Senior Master. Le iscrizioni possono essere effettuate entro il 27 luglio prossimo all'indirizzo siciliachiocciolamaisdam.it Sono passati cinque anni dalla scomparsa di Don Giulio Scuvere, il Centro di Cultura e Spiritualità Cristiana Salvatore Zuppardo insieme all'Associazione Gaudium et Spes Don Giulio Scuvera lo ricorda nella parrocchia San Tommaso a Butera. Appuntamento previsto per domani alle 19 con una solenne celebrazione acaristica. Si rinnova l'appuntamento con la manifestazione l'estate gelese con la musica colta promossa dall'Associazione Amici della Musica Navarra di Gela con il patrocino del Comune domenica 24 luglio alle 21.15 all'ex monastero delle Benedettine è prevista il concerto lirico del trio Micaera d'Alessandro, soprano, salvo di salvo Baritono e Annalisa Mangano al pianoforte, il direttore artistico della manifestazione e il maestro crocifisso Ragona. Meningite batterica, questa è la diagnosi tempestiva che i medici del Sant'Elia hanno riscontrato un giovane nisseno 28enne trasportato febbricitante lunedì notte al pronto soccorso. Il giovane infatti da alcuni giorni soffriva di mal di testa, uno dei sintomi caratteristici della malattia, oltre alla febbre alta, è al dolore o rigidità del collo che ha così insospettito i medici che hanno immediatamente eseguito il prelievo a livello lombare. Altri sintomi possono essere la nausea, il vomito, forte fastidio agli stimoli luminosi, di confusione e sonnolenza, convulsione e inappetenza. Diagnosi confermata dai risultati di laboratorio dell'analisi del liquore, che hanno così escluso la forma virale, cioè quella meno grave della meningite. Liquore, quello estratto a livello lombare, mandato per un ulteriore conferma anche al Policlinico di Palermo, che ha confermato che la causa della meningite che ha colpito il giovane nisseno è da ricondurre a uno streptococco o pneumonie. Il 28enne è stato dunque trasportato al reparto di malattie infettive ed è già sotto terapia. Le sue condizioni non destano preoccupazioni da parte dei medici, che lo stanno tenendo sotto controllo. Si aspettano ora le 48 ore, come confermato dal primario facente funzioni del reparto di malattie infettive, Alfonso Averna, per stabilire se il giovane è definitivamente fuori pericolo. Come sempre in questi casi, i medici del pronto soccorso hanno adottato tutte le misure idonee per evitare il contagio di pazienti e di accompagnatori che in quel momento si trovavano a Sant'Elia. Si tratterebbe del secondo caso di meningite batterica nel giro di un mese in Sicilia dopo il ricovero di una 22enne all'ospedale civico di Palermo. Il picco della meningite si registra maggiormente in coincidenza con i campi di stagione o con variazioni di temperature come quelle che si sono registrate in questi giorni. È stato annullato l'appuntamento con i venerdì letterari di questa sera all'Eschilo Lab di Gela. L'autore del libro I prigionieri di Sirte, Nino Milazzo, infatti, non potrà essere presente. Siamo allo spettacolo. Attenti a quei due. Lo spettacolo teatrale che sarà portato in scena dalla Compagnia Antidoto presso la piazza Antistante e la chiesa Santa Maria di Betlemme, domenica 24 luglio prossimo alle ore 21, alle 20, promosso dal Comune di Gela. Mentre non lo faccio più è la commedia che sarà portata in scena dalla Compagnia Teatrale Antidoto di Gela, oggi alle 21, presso l'arena all'aperto del Teatro Antidoto. L'ingresso è di 5 euro a coppia. Sabato 30 luglio alle 21.30, invece, Giobbe Covatta presenterà la Divina Commediola. In questo caso il biglietto costerà 10 euro. È tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito fin qui. Arrivederci. Grazie per averci seguito.